Jennifer Lopez ha raccontato come è avvenuta la proposta di matrimonio del suo futuro sposo, Ben Affleck, ridevo e piangevo contemporaneamente, i Bennifer sono di nuovo fidanzati ufficialmente, dopo oltre dieci anni dalla loro separazione che arrivò poco tempo prima delle nozze. Era il 2004 quando si lasciavano e nel 2021 si sono ritrovati, per darsi una seconda chance, a dimostrazione del fatto che il loro amore non era in realtà mai svanito. Jennifer Lopez pochi giorni fa ha condiviso la notizia della proposta con gli iscritti alla sua newsletter onzei lunga LO e nelle ultime ore ha aggiunto dei dettagli riguardo il romantico momento. Jennifer Lopez ai suoi fan della newsletter ha raccontato del magico momento in cui il suo futuro sposo, Ben Affleck, si è inginocchiato per porgerle l'anello con un diamante verde. Era un tranquillo e rilassante sabato sera, e lei si stava facendo un bagno quando si è verificata la cosa più romantica che avrei potuto immaginare ha detto la cantante. Sabato sera mentre ero nel mio posto preferito sulla terra, nella vasca da bagno con schiuma, il mio bellissimo amore si è inginocchiato e mi ha fatto la proposta. Sono stata presa totalmente alla sprovvista. L'ho guardato negli occhi sorridendo e piangendo allo stesso tempo, cercando di realizzare che dopo venti anni tutto ciò stava accadendo di nuovo, ero letteralmente senza parole e lui ha detto, è un sì? Ho detto sì, certo che è un sì. Ilunga LO ha spiegato di aver pianto dalla gioia e di essere molto fortunata per aver ritrovato l'amore, due persone che si promettono di esserci sempre l'una per l'altra. Due persone molto fortunate, che ha avuto una seconda possibilità di vero amore. Ilunga LO ha spiegato di aver pianto dalla gioia, di aver pianto dalla gioia e di aver pianto dalla gioia, Ichiga la prima rocione Grazie a tutti.